Carbonia si accende nel centro-sinistra il dibattito in vista delle prossime elezioni comunali. Sono diversi i gruppi che intendono esprimere un proprio candidato sindaco. Da Pizzuto, passando per Guadagnini, fino a Casti e Moritu, sono numerosi coloro che ambiscono al prestigioso ruolo di primo cittadino. Con Partigianato Edilizia Sardegna protesta contro la patente a punti e il rating di impresa. Secondo il suo presidente Giacomo Meloni, questi nuovi provvedimenti rappresenteranno un carico penalizzante per le piccole e micro imprese, che sicuramente non peserà per quelle grandi e più strutturate. Iglesias è conclusa la prima fase dei lavori di efficientamento energetico. Grazie a questi interventi si sono potuti sostituire i vecchi corpi illuminanti con i nuovi sistemi a LED, garantendo così un miglior livello di illuminazione ed un importante risparmio nel consumo di energia elettrica. Tutto pronto a Carbonia per l'antico trenino con i turisti. Il treno, composto dalla storica locomotiva Vapore 740-243 e dalle tre carrozze Terrazzini del 1933, partirà dalla stazione di Cagliari alle ore 8.30 e approderà al centro intermodale di Carbonia intorno alle 10.15-10.30 di domenica 1 marzo. Ben ritrovati su Canale 40 per questa nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo parlando delle elezioni comunali di Carbonia. Ad un anno impazza nel centro-sinistra il Totonomi per i potenziali candidati sindaco. Vediamo quali sono i principali competitor in campo. Manca all'incirca un anno l'avvio della campagna elettorale per le prossime elezioni comunali nella città di Carbonia e già impazza nel centro-sinistra il Totonomi dei potenziali candidati sindaco e qualcuno, come l'esponente Dem Giacomo Guadagnini, già compie un balzo in avanti e si autocandida per il prestigioso ruolo. Una scelta la sua, che a giuricare dalla tiepidezza per come è stata accolta dal gruppo dirigente democratico, è destinata a destabilizzare i già precari equilibri del partito e in generale di una coalizione, che oggi stenta a ritrovare il filo dell'unità. Con, da una parte, l'ala facente capo a Luca Pizzuto, Ignazio Cucco, Luisa Poggi, Ugo Piano, che non nasconde di voler diventare centrale alle prossime elezioni, arrivando addirittura a presentare un proprio candidato, che per l'occasione potrebbe essere proprio l'ex consigliere regionale di SEL, oggi articolo 1 Pizzuto, considerato da molti troppo risinistra, ma che potrebbe contare, così come è già venuto alle scorse elezioni regionali, anche sul supporto di Salvatore Cherchi, storico esponente di punta della sinistra territoriale. Mentre, dall'altra parte, l'ala di riferimento socialista, interpretata da Giuseppe Casti, il quale non nasconde la voglia di riprovarci, dopo la sua dipartita alle scorse elezioni comunali, a causa del vento grillino e dalla vittoria del Movimento 5 Stelle. Casti avrebbe tantissime ragioni per ritentare una candidatura, oltre quelle di natura umana, motivate da una volontà di rivalza verso l'attuale compagine politica a guida del Comune, che non risparmione sui confronti una campagna elettorale durissima e costellata talvolta da colpi bassi. Inoltre, l'ex sindaco, fra i tanti potenziali candidati per il ruolo di primo cittadino, avrebbe, dalla sua parte, anche un consistente radicamento all'interno del partito e, in generale, nell'opinione pubblica in città, divisa tra chi lo detesta e lo ama. In mezzo a questo scenario e diversi pretendenti alla carica di sindaco, più volte si è sussurrato, dalla parte sinistra del quadrante, il nome di Pietro Muritu, che sarebbe gradito alle alte sfere del partito, ma che ancora non ha lasciato trasparire le sue reali volontà in vista del 2021. Ma i beni informati, fra chi lo conosce bene, dichiarano che egli non sarebbe disposto a lanciarsi in una bagarre di incerta risoluzione e, nel caso non si arrivasse a una definizione di uno strumento, come ad esempio le primarie, in grado di ricompattare tutta l'area politica di riferimento su un nome condiviso perché votato, sarebbe pronta a defilarsi ancora prima che si arrivi allo scontro. Certamente le primarie, richiamate da più parti, potrebbero essere lo strumento migliore definitivo per riunire il centro-sinistra su un unico progetto. Ma non è detto possano essere utilizzate o accettate da tutti, visti i veti incrociati già lanciati, come quello di Giuseppe Casti, verso ogni forza politica all'interno della quale siano ospitati o candidati esponenti che in passato avrebbero contribuito alla sconfitta della sua coalizione. Dunque, stando così le cose, dialetica politica e ambizioni di ognuno a parte, quello che è certo è che da qui alle prossime elezioni comunali del 2021 se ne vedranno delle belle. E sull'argomento delle prossime elezioni comunali di Carbonia e l'autocandidatura dell'esponente DEM Giacomo Guadagnini è intervenuto anche il segretario regionale del PD Emanuele Cani. Sentiamo. Dopo l'autocandidatura dell'esponente PD Giacomo Guadagnini alle prossime elezioni comunali di Carbonia, previste fra poco più di un anno, sull'argomento è intervenuto oggi il segretario regionale del Partito Democratico Emanuele Cani, il quale ha tracciato le linee guida che ispireranno il partito da lui rappresentato nella costruzione di un progetto politico che vada in questa fase oltre i nomi dei possibili candidati ma che sappia realmente rappresentare un'alternativa di governo per la città. Sull'argomento la mia opinione è nota. Io credo che sia sempre comunque doveroso e opportuno innanzitutto mettere in campo un progetto. In questo caso stiamo parlando di Carbonia quindi bisogna mettere in campo un progetto per la città, un progetto che abbia come prospettiva e come obiettivo meglio dire quello di rilanciare l'attività e la città, rilanciare l'attività interna alla città ma rilanciare anche l'attività e le relazioni della città rispetto a quello che c'è intorno. Quindi partire da un progetto e partire da una coalizione di centro-sinistra che deve raggruppare poi e raccogliere, unire tutto quello che c'è in città dal punto di vista delle varie attività, siano esse culturali, sportive, il mondo dell'associazionismo, della cultura, le varie attività produttive, cioè mettere insieme una compagine che voglia davvero, che abbia come obiettivo rilanciare la città. E tutto questo contesto poi dovrà scegliere un candidato a sindaco, ma dovrà scegliere una squadra, dovrà comporre le liste dei candidati, cioè bisogna fare un lavoro collettivo. Io credo che sia sbagliato nel rispetto di tutte le donne, gli uomini che poi si propongono, si mettono a disposizione, ma io credo che sia assolutamente fondamentale partire da questi elementi, cioè il progetto, la squadra, il collettivo, la coalizione e poi tutti insieme dovranno scegliere chi dovrà in maniera interpretare a vari livelli questa visione di città, questo progetto. In questo senso io, per quanto sarà possibile, sono assolutamente a disposizione per dare una mano, per provare proprio a unire, a mettere assieme, a elaborare un'idea di città, di progetto, capire come costruire, ricostruire, ritessere, tutta una serie di relazioni che purtroppo in questi anni che ci lasciamo alle spalle sono mancate in questa città. Cambiamo argomento, la Confartigianato Edilizia Sardegna è intervenuta duramente nelle scorse ore contro il progetto nazionale di introdurre la patente a punti ed il rating d'impresa per le aziende edili. Vediamo il perché in questo servizio di Manolo Murito. La Confartigianato Edilizia Sardegna ha divulgato una nota nelle scorse ore nella quale si afferma chiaramente la contrarietà a ogni nuovo balzello fiscale e burocratico e nello specifico contro la volontà di introdurre nel settore edile la patente a punti e il rating d'impresa per partecipare agli appalti nelle costruzioni. Quello di Confartigianato è un doppio no a tutela delle oltre 22.000 imprese isolane delle costruzioni che impiegano oltre 40.000 addetti. Ancora una volta ha dichiarato Giacomo Meloni presidente dell'associazione dattoriale vogliamo richiamare la politica a un senso di responsabilità verso le piccole e piccolissime imprese edili che sono schiacciate da una burocrazia sempre più soffocante. Per questo non ravvisiamo la necessità di una patente a punti poiché il rispetto delle norme è codificato dai molteplici adempimenti già previsti tanto meno la necessità di un rating d'impresa. In particolare sulla patente a punti Meloni ha sottolineato come questo strumento si presta ad alterare il libero mercato favorendo i grandi general contractors a svantaggio delle piccole imprese. La qualifica di impresa sicura secondo il presidente dell'associazione potrebbe comprendere determinati standard contrattuali organizzativi nell'impiego della mano d'opera anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile utilizzati. Come per la patente di guida dunque alle imprese lavoratori autonomi che operano nell'edilizia verrebbe attribuito un punteggio iniziale soggetto a decurtazione in seguito all'accertamento di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Arrivate l'azzeramento del punteggio per ripetute violazioni scatterà il blocco dell'attività e la chiusura dei cantieri. Perciò confartigianato pur comprendendo la battaglia per la sicurezza nei cantieri la legalità e la trasparenza delle operazioni ritiene sbagliato il merito del provvedimento in quanto esso si basa sull'idea che solo attraverso un ulteriore carico burocratico si possa garantire la virtuosità di un'impresa. Un carico penalizzante per le piccole e micro imprese che sicuramente non peserà per quelle grandi e più strutturate. Identico discorso sul rating di impresa predisposto dall'autorità nazionale anticorruzione pensato per misurare la reputazione delle imprese ma che in realtà secondo quanto espresso da Mironi somiglia tanto a uno strumento punitivo e presenta con esso un'impostazione totalmente inaccettabile perché viziata ancora una volta dal pregiudizio nei confronti delle imprese del settore. Pertanto si legge in definitiva nella nota di Confartigianato Edilizia Sardegna nell'attesa che si avvii una qualificazione dell'intero comparto delle costruzioni dei servizi e delle forniture stazioni appaltanti incluse bisognerà puntare su un sistema premiante in grado di determinare la fidabilità dell'impresa esecutrice valutando invece la reale capacità tecnica professionale organizzativa la solidità patrimoniale e la permanenza sul mercato. Bentornati in studio l'amministrazione comunale di Iglesias ha fatto il punto sullo stato degli interventi di efficientamento energetico precedentemente avviati in città vediamo tutti i dettagli in questo servizio. L'amministrazione comunale di Iglesias ha divulgato una nota nelle scorse ore nella quale si fa il punto sullo stato degli interventi di manutenzione e adeguamento ed efficientamento energetico precedentemente avviati in città. Secondo quanto scritto nel documento si è finalmente conclusa la prima parte dei lavori compiuti nell'ottica di un mantenimento in piena efficienza degli impianti. Infatti dopo i sopraluoghi effettuati al fine di valutare lo stato dell'illuminazione in città si è provveduto a sostituire vecchi corpi illuminanti con i nuovi sistemi a LED garantendo un miglior livello di illuminazione e un importante risparmio nel consumo di energia elettrica che si ripercuote in una conseguente riduzione della spesa per le casse errariali. Gli interventi finanziati grazie alla sinergia tra il Ministero dell'Economia e Finanze e il Comune di Iglesias per un totale di 130.000 euro hanno interessato le vie della Regione Valverde Antas San Salvatore del Cimitero Roma 20 Settembre Veneto Oristano Diaz Nuoro e la Piazza Mercato mentre dalle prossime settimane prenderà il via una seconda serie di interventi finanziati per un importo complessivo di 127.759 euro in altre vie cittadine. Questi interventi ha spiegato il Sindaco Mauro Usai rispondono in maniera concreta all'esigenza di efficientamento energetico coniugando il risparmio con la salvaguardia ambientale. Tesi fortemente sostenuta anche dall'assessore ai lavori pubblici Vito di Daci il quale ha spiegato come grazie ai nuovi impianti si possa ottenere una migliore qualità dell'illuminazione pubblica prevenendo quello che viene definito inquinamento luminoso ed evitando così sprechi di energia. Quali sono le norme che regolano l'impignorabilità nelle pensioni? Abbiamo approfondito l'argomento con il Presidente territoriale della Di Consumo Giancarlo Cancedda sentiamo insieme. Oggi affrontiamo un argomento che già è stato affrontato qualche mese fa ma su richiesta di diversi telespettatori di Canale 40 dobbiamo riaffrontare e specificarlo meglio perché probabilmente non è stato ricepito bene o non l'abbiamo spiegato bene. Si tratta di una garanzia per i pensionati. Ricordiamo che per i pensionati esiste una legge dove garantisce un minimo vitale della propria pensione cioè un pensionato a un pensionato non gli si può pignorare la pensione se non dopo certi importi. Qual è il minimo vitale? Il minimo vitale si basa sull'importo dell'assegno sociale mensile erogato dall'Inps. L'assegno sociale mensile per questo anno per il 2020 è esattamente di 300 chiedo scusa di 459 euro Allora l'importo dell'assegno mensile 459 euro aumentato del 50% diventa 690 euro Ecco 690 euro è la cifra impignorabile dalle nostre pensioni nessuno ce le può togliere e se uno ha debiti cosa succede? Allora la cifra eccedente il minimo vitale eccedente i 960 e i 690 euro può essere impignorata per un quinto facciamo un esempio pratico se un pensionato prende 1200 euro di pensione e ha dei debiti di vario tipo alla 690 euro è impignorabile la differenza fino a 1200 ovvero sia a 510 euro è aggredibile per un quinto quindi praticamente per 1203 euro praticamente al pensionato rimane una cifra disponibile di 1097 euro solo nel caso in cui il pensionato abbia più debiti con diverse società banche o altro allora la parte eccedente il minimo vitale eccedente i 690 euro può essere impignorato del 50% il classico esempio 1200 di pensione 690 è impignorabile la differenza è 510 può essere impignorato per la metà cioè di 255 euro in pratica al pensionato rimane oltre 900 euro di pensione questa è la garanzia che lo Stato dà ai pensionati quindi siamo in una situazione precaria di difficoltà finanziaria nella nostra zona perché molti oltre a vivere lordo o per vivere i pensionati devono mantenere figli e nipoti spesso non ce la fanno e molto spesso per tirare avanti mettono su qualche debito bene sappiate che comunque lo Stato vi garantisce o ci garantisce con un minimo vitale di 690 l'epidemia di coronavirus sviluppata in continente continua a creare disagi anche in Sardegna proprio da evitare problemi o potenziali rischi di diffusione del virus la famosa solo women run corsa di sole donne prevista per il prossimo 8 marzo a Cagliari è stata rimandata al 6 giugno 2020 questa scelta hanno spiegato gli organizzatori è stata presa dopo un'attenta valutazione effettuata con gli organi prepossi del comune della prefettura e della regione sui rischi che un assembramento così grande di persone avrebbe potuto ingenerare anche in virtù delle centinaia di iscritte alla competizione provenienti da tutta Italia e addirittura dall'estero andiamo avanti l'evento previsto per domani 29 febbraio alla casa del popolo di Carbonia organizzato per festeggiare i due anni di attività del centro sociale fanno sapere gli organizzatori e rinviato a data da destinarsi a causa di problemi interni all'organizzazione gli eventi in apertura della nostra terza parte del Tg domenica primo marzo arriverà a Carbonia un antico treno con a bordo 215 turisti che per tutta la giornata potranno deliziarsi con le attrattive culturali del territorio comunale il treno composto dalla storica locomotiva Vapore 740 243 e dalle tre carrozze Terrazzini del 1933 partirà dalla stazione di Cagliari alle ore 8 e 30 e approderà al centro intermodale di Carbonia intorno alle 10 e un quarto 10 e 30 l'evento è organizzato dall'associazione Sarda Treni Storici Sardegna Vapore e dalla Fondazione Ferrovie dello Stato italiane con il patrocinio del Comune Minerario per l'occasione come si evince dalle immagini all'interno del centro intermodale è stato allestito un infopoint per far fronte a tutte le esigenze e curiosità dei visitatori lunedì 2 marzo invece alle ore 11 nella sala riunioni della Torre Civica si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione Bacquabis Teatro 2020 Contatti Emoazioni Narrazioni organizzata dalla Cernita Teatro con la direzione artistica di Monica Porcedda in collaborazione con l'amministrazione comunale di Carbonia l'assessorato alla pubblica istruzione beni culturali e spettacolo della regione Sardegna la Fondazione di Sardegna e il circuito CEDAC Teatro Ragazzi la rassegna già inaugurata il 17 gennaio prevede una fitta sedie di incontri fino al 7 giugno 2020 Prosegue spedito e all'insegna della più ampia condivisione il cammino verso la redazione del piano strategico partecipato per lo sviluppo e il marketing turistico di Sant'Antioco dopo la grande partecipazione di operatori turistici e commerciali cittadini e associazioni registrata ai due incontri svoltosi martedì 14 febbraio e martedì 18 febbraio il sindaco Ignazio Locci e l'assessore al turismo Roberta Serrenti chiamano a raccolta gli attori protagonisti del piano strategico per il terzo appuntamento con il dottor Josep Ejark esperto di sviluppo delle destinazioni turistiche che si terrà martedì 3 marzo 2020 alle ore 15 in aula consigliare l'obiettivo finale è creare le condizioni affinché l'isola di Sant'Antioco e il suo ingente patrimonio naturalistico ambientale e culturale diventino definitivamente un volano turistico ovvero l'asset strategico per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio è tutto per questa edizione del nostro telegiornale vi lascio in compagnia delle previsioni del tempo per la giornata di domani e di domenica vi ringrazio per l'attenzione e per averci seguito e vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro Tg buon fine settimana